La zizza grande ci vuole, si sa, la zizza è mezza bellezza. Giovedì mia figlia, si sposi, me la viene a truccare? Ci vogliamo vedere per le 5 del mattino? Ci vediamo alle 4, ah! Poco poco! Ma mai non c'è a fare? Stupendo lo sviluppo si deve mangiare. No, vuoi capire che io lo sviluppo l'ho finito da 10 anni? Eh, sdusi il culto! Ehi, 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 loro stai giro a bucandosi. Tu non ne hai bisogno. Oh, hai guardato le cizze di ferie? Io! E' via! 5.000 euro per i due incontanti. E' un viaggio che vale più di 15.000 euro. Questo vastano l'abbiamo sistemato in un bello alloggi di cemento armato. Allora accetto! Oh, ho vinto un viaggio che ci porterà fino a inizio! Questa cosa! Il santuario dove si è spostata tua sorella? C'è un'auto che vi attende e vi accompagnerà agli uffizi. E ma agli uffizi che musica fai? Questo lo sai dove sarebbe bello? A metterla a capizzolo delle lecce. Si è scritto che il muratore è stato Gaudino. Carlo, è incantato. È incantato il cognome. Signorita, lei mi tiene 5 kg in più. A me! Tu tiene che la vai! Vita, cuore. Che amo. Battito. Che amo. Carino delle star. Volete favorire? C'ho pure una quantità di salsicce e friorini. No! Noi ormai siamo di un'altra... Streppa. Streppa. Tonsino delle strano. Noir. 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 Grazie a tutti